Ciao bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere stiamo andando via. Andiamo con la macchina. Sì, sono già parte. Questa è l'altra casa mia. No, questa è l'altra, tanto sì. Allora. Ehm, devo dire di iscrivervi, di lasciare like, di suonare la campanellina e di sparare il mi piace. Ok ragazzi, ho fatto un blocco perché... Ho salvato un pezzo di cartone. Guardate di fuori. Bello? Bello? O meno? Allora. Ok. Ok. Già un'altra casa mia. Non lo so. Ok. Ok. Pieno di alberi Mi è piaciuta l'aspettativa Ok Quindi sparate un gioco di like Sparate anche un gioco di iscritti E suonate la campanellina E di nuovo iscrivetevi al canale Ciao raga Ciao 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 Ciao